Buongiorno a tutti! Oggi vi spieghiamo come si vota. Quando l'8 dicembre vi richierete alle urne per votare rete, ricordatevi di portare un documento di identità e il certificato elettorale. Se ancora non lo avete ricevuto potete richiederlo all'ufficio di Stato civile. Al seggio vi verrà consegnata una scheda elettorale come questa. Per votare rete basta porre una croce sul simbolo di rete, poi nella parte centrale potete esprimere tre preferenze scrivendo tre numeri della lista dei candidati di rete oppure tre nomi e cognomi. Noi vi raccomandiamo di scrivere tutte e tre le preferenze. Mi raccomando la croce va apposta non sul simbolo della coalizione ma sul simbolo di rete. Ecco ricordiamo per la milionesima volta che l'unico partito alleato con rete è domani i motus liberi e infatti la nostra è l'unica coalizione presente in questa tornata elettorale. Cerchiamo anche di fare un po' di chiarezza su cosa succederà il 9 dicembre nel caso se rete o comunque la nostra coalizione dovesse uscire vincitrice della tornata elettorale. Se dovessimo ottenere un risultato superiore al 50% più uno dei votanti andremo al governo da soli ma se questo invece non dovesse accadere allora si aprirebbe la fase di consultazioni in cui dovremmo andare a dialogare con tutte le liste tranne quelle che abbiamo espressamente escluso come Repubblica Futura. Quindi di cosa si parla durante le consultazioni? Ci si confronta sui programmi, sulle compatibilità dei programmi cercando di arrivare ad una sintesi che abbia come fine ultimo l'interesse generale del paese. Naturalmente il primo partito colui che apre le consultazioni sarà quello con più forza negoziale. Per questo è importante che sia rete ad aprire le danze. Non è scontato che le consultazioni verranno portate avanti solo da due soggetti politici ma ciò dipenderà dalle percentuali con cui le varie liste usciranno dalle elezioni. Ecco in ogni caso dato la gravità della situazione attuale sarà necessario operare tramite un grande numero di riforme per cui è vitale avere un'ampia rappresentatività in consiglio e soprattutto occorre ripristinare quel dialogo e quella collaborazione con le parti sociali, le associazioni di categoria e con la cittadinanza che in questi anni è mancato. Si parla infatti molto in questo periodo di idee, di proposte, di programmi. Spesso purtroppo si tralascia la parte più importante per tutelare il futuro del nostro paese. Bisogna stirpare le erbacce, occorre compiere una vera e propria opera di potature e di bonifica rispetto a ciò che è stato fatto fino ad ora. Prendere le distanze in maniera convinta ed iniziare veramente a costruire qualcosa che abbia come base la trasparenza, la giustizia e il bene pubblico. Quindi l'8 dicembre andate a votare e votate a rete! Grazie a tutti, alla prossima!